... Vai rischioso? Cioè, se dopo il secondo avviso vai via così non hai... Vuoi che lo Stato ti dica di comportarti bene? Voglio che lo Stato faccia qualcosa per la crisi ecologica, questo mi aiuta. Anche noi lottiamo per il nostro futuro e quindi crediamo che se stanno dando la sorveglianza speciale a uno di noi, tutti noi dobbiamo prenderci questa misura. Pronto? Perché noi stiamo facendo tutto quello che è necessario fare? ... ... ... ... ... ... ...